NILU FARADATI Buongiorno, volevo smentire l'articolo in cui si sospetta di una mia preferenza nei confronti di Nicolò, non esprimerò preferenze, come avete potuto notare non ho ammesso, mi piace, a nessun commento riguardante i ragazzi, per correttezza, quel commento è stato scritto da una persona che conosco, per questo il, mi piace Vi prego di correggere per evitare fraintendimenti Grazie mille, Nasrine, conclude la signora Aggiornamento di Anna Montesano NILU FARRAGIA E LEI SUA SCELTA? Nicolò Ferrari ama NILU FARCHE AMA LORENZO CHE AMA SARA AFFIFELLA Al momento sembra questa la situazione nel trono classico di uomini e donne e tutti sono destinati a fare da carta da apparati fino a che la situazione sarà chiara La bella ex di Temptation Island ha saputo mettere con le spalle al muro Lorenzo tanto che, dopo essersi dichiarato per NILU FARRA, è tornato sui suoi passi uscendo con Sara e arrivando addirittura ad emozionarsi per lei, e la sua rivale, NILU FARRA dato di matto delusa e sconvolta per via del doppio gioco di Lorenzo e proprio questo potrebbe spingerla tra le braccia di un altro corteggiatore, e quale se non dell'ex rampollo di ricanza Nicolò Ferrari Proprio nella puntata di ieri il corteggiatore si è mostrato davvero coinvolto e Pronto a portare via dallo studio la tronista napoletana, ma sarà davvero così che andrà a finire, lo strano L.I.K.E. Social Alcuni fan sono d'accordo nel dire che NILU FARRA potrebbe trovare la felicità proprio insieme al giovane rampollo ma nelle scorse ore è successo qualcosa che ha messo in allerta anche quelli che tifano per Lorenzo e per Giordano, ma cosa? Un piccolo dettaglio lascia pensare che NILU FARRA abbia già scelto Nicolò almeno nel suo cuore visto che al momento non è stata annunciata la registrazione della scelta Ma di cosa si tratta? Sembra che a lanciare l'amo sia stata la madre della tronista che proprio sul suo profilo social, senza rispondere mai a nessuno, abbia messo mi piace ad un commento di una fan che spera proprio che NILU FARRA possa portare a casa Nicolò al momento della scelta Basta davvero un like per cambiare le cose a uomini e donne? Forse la madre di NILU FARRA fa proprio il tifo per il rampollo Già la figlia si è pronunciata in famiglia sulla sua prossima scelta, diritti d'autore riproduzione riservata Iscriviti al nostro canale